Sono passati cinque anni da quel 14 luglio del 2008 che ha cambiato la storia politica della regione Abruzzo. Quel terremoto giudiziario ha preso il nome di Sanitopoli e ha portato in carcere l'allora governatore Ottaviano del Turco, alcuni componenti la sua giunta e numerosi altri personaggi del mondo politico, amministrativo e imprenditoriale. Alla fine sono 27 gli imputati del maxiprocesso sulle mazzette nella sanità abruzzese e due le giunte coinvolte. Il governo di centrodestra guidato da Giovanni Pace è quello all'ora in carica di Ottaviano del Turco. A far crollare i palazzi del potere è stata da prima l'inchiesta Fira la vera genitrice di Sanitopoli che nel 2006 portò all'arresto del presidente della finanziaria regionale Giancarlo Masciarelli, ideatore del sistema di cartolarizzazione dei debiti della sanità che poi patteggerà tre anni e sei mesi uscendo definitivamente di scena. Ma ancor di più sono state le rivelazioni di Maria Vincenzo Angelini, patron del gruppo Villapini, che nel 2007 decide di andare a parlare con il procuratore di Pescara Trifuoggi e raccontare la sua verità sulle tangenti pagate ai politici. Un vero fiume di denaro tra cui ci sono soprattutto i 6 milioni di euro che dice aver portato a casa di Del Turco a Colle Longo in una lunghissima sequela di dazioni. Il processo scaturito dalle indagini è cronaca di questi anni e di questi giorni e si può condensare tutto nella requisitoria dei PM e nelle arringhe difensive. Di Flori e Bellelli hanno parlato di un sistema malato, di una politica del malaffare e di una sanità abruzzese bancomat delle necessità personali dei politici. Un bancomat di nome Angelini che, vessato dalle minacce di Del Turco di fargli chiudere le cliniche, avrebbe pagato tangenti. Dall'altra parte della barricata i difensori quasi tutti concordi nel dire che Angelini si sarebbe costituito alla Procura per evitare di andare in galera, sapendo delle inchieste sulle sue cliniche e della richiesta di arresto dei carabinieri sul tavolo della Procura di Pescara. Per le difese Angelini avrebbe giustificato i prelievi dalle casse di Villapini per scopi personali, circa 60 milioni di euro in totale, dicendo di averli usati principalmente per le mazzette da dare ai politici, Quarta, Cesarone e Del Turco in particolare. Come sono andate fino in fondo le cose? Probabilmente non lo sapremo mai. Non sapremo mai se davvero l'ex ministro delle finanze, ex presidente della commissione antimafia e allora governatore della regione Abruzzo abbia davvero ricevuto le mazzette in casa sua in un sacchetto di carta che poi ha riempito con mele e noci. Lunedì sapremo la verità processuale che a questo punto però conta più di ogni altra cosa. I 12 anni di carcere chiesti dal PM per Del Turco, i 10 anni chiesti per Cesarone, i 9 per Quarta e via via tutte le altre pene pesantissime sul tavolo del collegio preseduto dal giudice Carmelo De Santis, oltre i 150 milioni di euro di risarcimento chiesti dalle parti civili pongono sulle spalle dei giudici una responsabilità enorme. Riscrivere, qualsiasi sia il verdetto, la storia recente della regione Abruzzo.